salve a tutti e bentornati in dolcezza e magia oggi ricetta ricca di ricordi tradizione della mia terra vi mostro come preparare le paste di mandorla in due versioni quella classica e quella vegan il procedimento è identico mettiamo lo zucchero nel mixer e lo frulliamo un po' fino a raggiungere una consistenza tipo zucchero a velo aggiungiamo le mandorle e la scorza di un agrume io ho usato l'arancia nella versione vegan e il limone in quella tradizionale e frulliamo per realizzare la versione vegana basterà aggiungere qualche cucchiaio di acqua di conservazione dei ceci meglio conosciuta come acqua fava sembra un po' strano lo capisco eppure è davvero un valido sostituto dell'uovo invece per la versione classica aggiungiamo l'albume infine mettiamo anche un cucchiaino di miele o di sciroppo d'agave o d'acero e frulliamo ancora nelle note sotto al video come sempre troverete tutti gli ingredienti mettiamo l'impasto profumato è un po' colloso in una sac à poche e formiamo i biscotti quando ero piccola non si usava la sac à poche ma il popolare mutu un beccuccio da pasticcere molto largo dove si metteva l'impasto e poi si schiacciava con il dito mia nonna era incredibilmente veloce metteva la pasta e schiacciava vedevo i biscotti perfetti posarsi nella teglia insieme a mia zia e alla mia bisnonna impastavano a mano chili di mandorle mentre noi piccoli giocavamo ricordo le ciliegie candite rosse verdi pezzettini di arancia e l'immancabile chicco di caffè c'erano vaschette piene di biscotti infornati con pazienza e preparati con allegria per me era una vera giornata di festa ora che ci rifletto bene da adulta di certo chi faticava si stancava parecchio ma io ricordo solo momenti di spensieratezza quando il tempo scorreva in modo diverso ricordi indelebili nella mia mente queste paste decorate con le ciliegie e con le mandorle sono quelle vegane ma le paste di mandorla sono anche semplicemente ricoperte di zucchero a velo ed è così che ho decorato quelle tradizionali fatte con l'albume si dà una forma all'impasto in genere a palla o a esse e poi si ricopre di zucchero a velo io ho aggiunto anche un po di marmellata di arance perché come ormai avrete capito è la mia preferita adesso bisogna lasciar riposare i biscotti in frigo per una o due ore così non perderanno la forma in cottura e poi inforneremo le nostre paste di mandorla siciliane tra le due versioni varierà solo il tempo di cottura inforniamo le paste di mandorla vegane per 10 12 minuti e quelle tradizionali per 15 ed ecco qui le paste di mandorla versione vegan e versione classica difficile stabilire la differenza vi suggerisco di provarle entrambe e fatemi sapere nei commenti quale delle due sarà la vostra pasta di mandorla preferita il video si conclude qua se vi fa piacere lasciate un like un commento e iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto intanto io vi ringrazio per aver trascorso un po' del il vostro tempo con me a presto